Ciao ragazzi, quest'anno io sono in quinta superiore, no invece, io sono in quinta superiore e devo affrontare la maturità Già qua partiamo male, però parliamo delle tre fasi che ha uno studente di quinta superiore per la maturità Partiamo dalla prima fase, allora la prima fase è diciamo 6 a settembre, ottobre, novembre, dopo prendiamo anche dicembre Proprio siamo lì, che dici ma sì, quando arriva studierò, ma sì dai, cioè facciamo tutti insieme Sai un po' di quella piccola ansia, ma proprio è lì che dici no, lascia stare, proprio non te ne frega niente C'è ancora lì che te la godi dall'estate prima, tutto spacco tutto, cioè proprio tranquillo E sei lì che, non so, dall'inizio dell'anno i prof cominciano, ah che avete gli esami, avete gli esami, avete gli esami, avete gli esami E ho capito che abbiamo gli esami, tranquilli che manca tempo e invece fai quel tempo lì, sarà proprio così Finirà subito, fidate I consigli che anche i miei genitori mi davano al tempo, ancora a settembre, fanno Mattia prendete tutti gli schemi, così quando arriva la maturità hai il distegno appunto per studiare Perché la maturità sarà appunto, per esempio l'orale, è su tutto l'anno, ok? Quindi dovrei portare tutte le materie di tutto l'anno, è veramente Se ci penso adesso è impossibile da studiare se non hai studiato tutto l'anno, se non ti sei fatto gli schemi A meno che non vuoi farti le notti a morire, però non ve lo consiglio E io, come la maggior parte, il 90% degli studenti, assì gli schemi, assì studiare bene Quindi è arrivato adesso che sei in una crisi totale, però ne parliamo nel prossimo video Poi pensate che a scuola mia, tipo, il proprio italiano è mancato per due mesi Quindi, tipo, in italiano in storia, veramente, cioè, tipo, adesso mette la fine E per chi, come me, in quinta, siamo arrivati in storia, per esempio, solo fino alla guerra fredda Che i dati vi è molto poco E in italiano non ho fatto nemmeno Ungaretti, nemmeno Montale Quindi c'è proprio lo schifo più totale, però vabbè Quindi diciamo che la preparazione per questo esame è molto bassa Però in quel periodo ero ancora meno, ero ancora me ne freghiste Non me ne fregava niente, tutto tranquillo, arriva la playa Ecco, tutto molto sereno Però vedremo che poi non sarà tutto così sereno Infatti, nel prossimo video parleremo di... Andatelo a scoprire nel prossimo video Però vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like, per favore E niente, ci vediamo al prossimo diario, puntata 2 Ciao!